Raccolta delle castagne vicino al maso Flusserhof a Campodazzo. Gli aiutanti castagnai percorrono in lungo e in largo il castagneto per raccogliere i deliziosi frutti dal terreno. Questo tipo di albero cresce particolarmente bene in Val di Sarco, il che si riflette anche nella qualità dei frutti, come conferma Martin Meyer. Egli gestisce il maso Flusserhof, è presidente dell'Associazione dei Coltivatori di Castagne della Val di Sarco ed è considerato un esperto in materia. La nostra associazione l'abbiamo fondato nel 2012 per fare un po' più vivere la castagnicoltura in Val di Sarco. Insieme con circa 100 contadini che siamo soci, vogliamo portare avanti la informazione della castagna, facciamo anche qualche gita informativa o così, quello è il più importante lavoro dell'associazione. Le tre associazioni dei marroni esistenti in Alto Adige e l'Ispettorato Forestale partecipano al progetto di ricerca lanciato dal Centro Sperimentale Leinbock nel 2020. I ricercatori del Centro Sperimentale sono alla costante ricerca di vecchi castagni e seguono i suggerimenti dei proprietari dei boschi. Qui, sul pendio un po' più alto di Salorno, cresce un albero molto speciale che fa battere il cuore dei ricercatori e ha suscitato l'interesse della scienza. Questo albero della varietà Suttiroler Gelbe è uno dei più antichi del suo genere in Alto Adige ed è ancora pieno di vita. Ogni anno, in autunno, produce una quantità considerevole di frutti. Questo castagno oggi è molto probabilmente databile tra i 5 e i 700 anni d'età. È un castagno che molto probabilmente è stato innestato in questa data, quindi è un innesto molto molto vecchio. Porta oggi una varietà molto interessante. Ci troviamo qui ai pochi di Salorno, comune di Salorno, circa 500 metri. Siamo rimasti colpiti da una pianta così sana, così vigorosa e capace di produrre frutti con una qualità così alta. Nel 2020, i ricercatori del Centro Sperimentale Leimburg hanno iniziato un censimento dei castagni in Alto Adige al fine di raccogliere i dati per individuare gli ecotipi adatti ad una propagazione mirata. Gli ecotipi sono esemplari della stessa specie con caratteristiche genetiche diverse che distinguono un albero da un altro in un luogo specifico. I ricercatori sono interessati a determinati parametri. Prima di tutto guardiamo la produzione delle castagne, come sono, quali caratteristiche pomologiche hanno questi frutti. Guardiamo ad esempio il colore della polpa, il colore della buccia, con quale facilità o difficoltà si sbucciano questi frutti. I ricercatori hanno prelevato le marze da questo albero in agosto per esaminarle più da vicino. I germogli di un anno, spessi come una matita, lunghi 30 centimetri e non ramificati, sono particolarmente adatti per l'innesto. Nell'ambito di altre sperimentazioni condotte in questi anni ci siamo accorti di quale diversità ci fosse nelle varietà presenti in Alto Adige, nei castagnetti. E' nata quindi il desiderio di descrivere, di confrontare tutte queste varietà e quindi il modo migliore è stato di innanzitutto identificarle e poi con la finalità di raccoglierle tutte in un campo, in un castagnetto della Leimburg, dove possano appunto rimanere. Il centro sperimentale Leimburg si affida all'esperienza di Hans Leimer e lì gestisce il vivaio di Postal, dove tra l'altro vengono coltivati questi castagni. In questo caso si tratta di continuare a coltivare e propagare la varietà migliore, mantenendo la qualità. Questo progetto si occupa innanzitutto di preservare gli ecotipi anche per il futuro. L'innesto di Cip è nato in America ed è un tipo di innesto a occhio. Con il coltello da innesti viene praticato un taglio netto di due o tre centimetri di lunghezza dall'alto verso il basso. Si taglia un germoglio dal portainnesto dell'armoscello selvatico e si inserisce l'occhio nobile della buona varietà, che poi cresce. E la buona varietà continua a crescere. I castagni rimangono nel vivaio per due anni e poi vengono rilasciati nell'impianto sperimentale di Leimburg a Fraxburg. Finora, in Alto Adige, sono stati trovati quattro ecotipi di castagne adatti alla propagazione e alla coltivazione controllata, il che dà fiducia ai castanicoltori. Il lavoro specifico della Leimburg per i contadini o per i soci del castanicoltore è molto importante per avere una pianta sicura con una stessa qualità, non qualità diversa da ogni pianta. In questo modo, la Leimburg ha il potenziale di cercarlo il più migliore castagno. In questo modo, i ricercatori sperano di poter assicurare il patrimonio arboreo dei castagni in Alto Adige a lungo termine e di prepararlo alle sfide future. Grazie a tutti